salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale ale eccoci qui di nuovo con mxgp riprendiamo dove ci siamo lasciati quindi avevamo fatto un ultimo gp un'ultima gara a difficoltà difficile e avevamo cambiato moto adesso siamo alla rockstar energy suzuki vediamo un attimo le email ok team manager ti farò da referente durante il tuo percorso come pilota nel team un percorso un po' accidentato te lo dico già da subito gran premio ci siamo prefissati almeno 25 punti spero che comunque questa moto possa andare abbastanza bene vediamo un po' se il nostro maialo si troverà a suo agio andiamo con il calendario beto carrero in brasile e poi quest'altra in francia io direi di provare magari a fare comunque questo 25 punti qua ancora non si sa niente opzioni di gara direi a questo punto di lasciare questa a difficoltà difficile e poi magari la prossima la rimettiamo a media dai facciamo così anche se è il nostro esordio però beto carrero vediamo un attimo come va che cos'è andiamo mettiamo i video di presentazioni saltiamo sempre vai ci sono degli elefanti morti o impagliati vediamo il nostro maialo dai si si voglio partire da qua dai almeno adesso ce l'abbiamo rossa la tutina è abbastanza un cazzotto nell'occhio però va bene uguale quella fucsia non era così male per il nostro maialo attenzione è ancora più sportiveggiante sembra attenzione non vedo niente non vedo niente piano 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 che cos'è eh abbiamo fatto un po' attenzione sportive guarda qua questi un po' cattiveria nelle ossa c'hanno questi che cos'è attenzione qua c'è anche un laghetto c'è l'ambulanza vicino ma noi è più facile che prendiamo il laghetto poi l'ambulanza la prendiamo due piano 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 ma non troppo cioè piano con sportiveggiante però ecco la nostra suzuki vai così attenzione fa tampina buon uomo che cos'è un po' di rispetto per il nostro maialo che non ho capito se quello era un ippopotamo che usciva da dal laghetto è stata una visione data dal caldo brasiliano vabbè comunque e noi la facciamo così perché siamo più sportiveggianti e ci piantiamo vai così come sportiveggianti no ma che fa ma che cosa non era tagliato mi scusi sposti lì facevamo un saltello che questa non sembra male come pista almeno è di queste ti capo occhio esteticamente questa terra rossastra questa vegetazione a ridosso della pista laghetto trattori elefante che cos'è questo maialo proprio ci sguazza qua quello se ne è già andato oppela attenzione comunque vorrei dire niente che il nostro maialo eh calla cioè non è che ci ha investito di più che cos'è ci ha fatto dibattare però c'è una cosa sportiveggianti mamma mia attenzione là ci spezziamo le chiappe e riesce a andare è così mamma mia della passion cattiveria con cattiveria aspetta dove cazzo ormai che ci sta quello davanti sembra che mi erano andato già all'aceto qua già stavo all'autogrill con una piadina in mano è una birrazza naturalmente perché il nostro maialo seguo una dieta ferrea è uno sportivo anzi è uno sportiveggiante così vai maialo vai maialo magari vediamo se non si fa troppo per le lunghe anche qui ne facciamo due di di gp quanto li sto registrando è un po' in anticipo questi rispetto a quando li posterò oh bella ecco la nostra suzuki ecco come se non ci fosse un domani oh bella se facciamo queste cazzane non ci sarà un dopo aia ora devi mettere il naso occhio che qua ci da che tagliamo quando non è vero perché noi tagliamo mai ma al massimo pennelliamo è diversa la cosa che non capiscono se noi pennelliamo noi tagliamo dai che lo dobbiamo andare a prendere questo bella e non è facile perché è abbastanza bomba un po' di luta sportiveggiante dietro ecco prendo un po' dei saltelli attenzione abbiamo fatto la curva attenzione la palma che la prendiamo sulle gengive che noi vogliamo fare il saltello perché siamo di pro vai maialo vai maialo non devi mordere mai sempre cazzuto e cattivo non ci posso domani eccolo il furbo faccio un raid ma è così cattivare cazzuraggio curvone curvone attenzione rischiamo rischiamo tantissimo primo giro eh questo è una bomba però stiamo bastando che lui non demorde proprio queste saltelle qua sono pericolosissime perché non ci fanno prendere direzionalità quindi rischiamo di fare dei danni piano occhio è così maialo vai così di derapata di derapata non ci posso domani lo faccio all'altro lato attenzione maialo ci prova anch'io così merda upela scusi questo piccolo tamponamento niente si è salvato si è salvato si perché sostanzialmente è come se sbatto contro un muro cioè questa eh vedete cioè loro neanche di un millimetro non la sentono proprio la mia moto o ci hanno dato una moto di pan di zenzero oppure c'è qualche problemino tecnico tattico nell'intelligenza artificiale meglio nei cararmati artificiali un po' lungo un po' lungo attenzione però il nostro maialo non demorde demordere mai maialo non demordere mai il sudo è cattivo così così la azione vai maialo vai vai così maialo grandissimo siamo riusciti a conquistare il primo posto ok molto meglio del previsto soprattutto con la difficoltà difficile mamma mia cazzuti e cattivi vai così andiamo con la seconda manche vai 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 a bomba a bomba come se non ci fossero domani a peto carrero adesso vediamo con la seconda manche cosa riusciamo a fare scendo in pista immediatamente non ci gasiamo troppo perché il nostro maialo potrebbe sempre creare il panico da un momento all'altro non me la vorrei neanche tirare vediamo che riusciamo a fare ma così partenza sportiva il giorno attenzione qua che questi sono figli di una gran troia tutti è proprio della stessa quindi pensate voi che lavorate c'è di stancabile attenzione c'è il nostro compagno di squadra qui noi abbiamo un altro fatto un po' di giardinaggio attenzione qua rischiamo un pochino attenzione non mi butti fuori buon uomo che siamo nella stessa squadra al box spezzo le ginocchia col cric il nostro maialo qua deve solamente spaccare di occhio occhio momenti di panico del nostro maialo così vai così come se non ci fosse bene così maialo bene così attenzione attenzione vai maialo occhio di punta c'è qua cattiveria maialo con cattiveria troppa se no ci facciamo del male comunque di rimanere in pista così maialo vai così attenzione con un problemino tecnico tattico in quella curva così ma mia la nostra nuova moto che sportiveggianza vabbè è merito di maialo però non vorrei dire niente però non è solo la moto che fa la differenza ma anche il nostro pilota che è sempre da tutto come si dice del maialo non si butta via niente quindi va così ma no però questa pista a parte tutto è abbastanza faiga che altro perché sono più colorate sono un po' bruttarelle quelle tutte tutta terra tutta sabbia questa almeno è un po' più viva un po' più a parte gli elefanti che sembrano abbastanza morti però per il resto c'è della vegetazione che forse è viva e forse anche no tanto è che rimane vivo il nostro maialo attenzione prendiamo un po' dei rischi va vai non ci guardiamo dietro andiamo avanti come se non ci fosse un domani vai maialo vai maialo occhio occhio dai attenzione punta tiralo vai maialo un altro giro e mezzo un po' meno anche possiamo arrivare i sogni assalvi forse forse iniziamo dopo tutti gli sti va subito se ottimi in stead in chi aspettano magari faccio un punto di niente così maialo vai così è un momento di concentrazione per il nostro maialo cercando di arrivare attenzione vivi ci spera è così un altro giro vai maialo vai maialo ce l'abbiamo qui dietro le calcagna dobbiamo fare errori stanno come gli avvoltoi da pulita di maialo attenzione finita la pista no merda puttana eva attenzione rischio ci deconcentriamo adesso non ci facciamo prendere dal panico che ce l'abbiamo dietro le costole qua noi ce l'abbiamo alle coste le coste vai vai se non ci fai solo mai vai maialo vai maialo così attenzione è finita la pista sempre maialo stiamo rischiando stiamo rischiando un po' di tensione nell'ultimo giro errore stiamo per buttare nel laghetto ci hanno ripescato vai maialo vai così attenzione il nostro maialo che si destreggia tra le dune fanghiglia dove sono queste qui dietro qui attenzione grande maialo attenzione dai che ci siamo dai che ci siamo maialo ce l'abbiamo dietro ma ci siamo grande così maialo mamma mia ce l'abbiamo alle calcagne ma siamo riusciti a vincere anche la seconda manche di questa gara perfetto perfetto è stata tosta è stata dura stavamo rischiando però bene è andato 50 puntoni a difficoltà difficili quindi perfetto perfetto a questo punto direi di lasciare la difficoltà così anche per la prossima gara che adesso andremo a fare al volo vai vai così vai così questa nuova moto sembra andare abbastanza bene certo magari era la pista che non era estremamente difficile andiamo poi nella pista francese che ci dovrebbe essere dopo questa e ci spariamo anche quella lì dai così andiamo un po' avanti Cairoli comunque continua a vincere in modo abusivo vai subito subito a Erné vai si 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 sesto appuntamento posizioni di gara me le lascio sempre così che era doppio edificio perfetto tre giri inizia inizia bomba e vediamo se riusciamo a concludere anche qui in modo decente questa è terra battuta quindi è un po' più quella era la terra un po' così terra brasiliana questa la vedo un po' chiara un po' più queste sono quelle che vabbè vediamo che c'esce vediamo che c'esce l'importante è arrivare sani e salmi si va bene qui va bene qui la bomba bomba aspetta dov'è la prima curva scusate buon uomo ci manca qualcuno qui di lato qualcuno che è già morto vai dov'è dov'è mi metta la mappa dov'è è una sega vabbè sti cazzo andiamo qua perfetto attenzione questa la vedo abbastanza difficile non sali scendi e vacca puttana dove cazzo andiamo no mi metta porca troia pure strettissima mamma mia qua i morti che ci usciranno cioè noi sostanzialmente però quante volte moriremo oh guarda questo tasci tua guarda qua non è che è stretta di più abbiate fede e che cos'è guarda là quello che mi arrota pure ci è venuto apposta contro il cartellone per arrotarmi che fa insiste che cazzo stiamo a fare super mario su cartellone no questa è improponibile scusate è un po' troppo stretta che cazzo è questo è da fare col triciclo con le moto dagli un po' di sicurezza per i nostri piloti soprattutto per il mio maialo che qua ci lascia le penne nonostante non ne abbia ci lascia la cotenna dai ci lascia la pancetta ci lascia qualcosa attenzione attenzione però rischio fortunatamente pure questi sembra che si stiano suicidando abbastanza però è una pista cazzo c'è di fine catroie guarda qua qua se fa oppela se fa un salto troppo salto non so dove arriva probabilmente a Parigi qualunque sia la distanza anche mille milla chilometri però ci arriviamo qua attenzione quello si è suicidato credo si è morto sul oh che cazzo fai maialo ma che fa ma porca la puttana di Eva guarda là quelli che tagliano questo è proprio scorrettezza giovani ma che cazzo un po' di correttezza nei confronti di maialo che sta morendo infinite volte però comunque sta cercando di mantenere la pista la piste attenzione dove andiamo perché attenzione sportellano sportellano cos'è il segato mi scusi cos'è trucciolo probabilmente di nome si chiamerà trucciolo scusi un uomo attenzione qui rischiamo la vita daia che fanno a terra sulle gengive andiamo lascia stare il povero maialo che è già nella merda attenzione driblata scusate quanti di difficoltà qui questa pista francese aia qua prima o poi saltiamo sotto lo dico mamma mia occhio i morti i morti attenzione vaffanculo però cazzo ho già lasciato la moto quello era già rinato ma che stiamo a fare si è zentato un ucidio attenzione il nostro maialo c'è cosa che fa l'incronica flat out guarda questo giovane ti sei sfracellato sta al tuo posto ecco così si vuole inserire che cattiveria occhio non vedo un cazzo ebacca troia scusa c'è un macello guarda quello che mi spinge contro i cartelloni almeno mi ha rimesso davanti che cattiveria proprio mamma mia attenzione vai maialo vai maialo abbiamo un po' di strada davanti a noi meglio così attenzione c'è anche lo steccato maialo strada per correre evitiamo lo steccato attenzione curva stretta questo maialo attenzione attenzione vai così con cattive aria come di fare un giro senza cadere troppo ottimistica forse sì non è calcante attenzione attenzione vai maialo vai maialo eh qua la vedo tosta sta gara scorso è andata bene ma questa abbiamo delle serissime difficoltà di sopravvivenza non dico di far più proprio delle difficoltà nel sopravvivere in questa pista comunque ci può stare dai questa vediamo nella seconda manche cosa succederà la prima è andata un po' così il primo giro è stato tragico ma fino a quando non si capisce che cazzo di vista anche adesso non è che stiamo andando benissimo guarda questo due cazzo scusa scifare la curvona stretta a me c'ho la pregio attenzione questi ti arrotano come se ci sono domani piano piano maialo piano che cazzo la gente è già arrivata ne siamo noni ma che puntino lo prendiamo però mamma mia attenzione questo guarda che figlio di troia e che cos'è guarda che bastardo ma questi appena ti toccano ti disintegrano la moto vacca puttana ok siamo decimi benissimo benissimo e vabbè che dobbiamo fare facciamoci subito l'altra manche vai vai studi e cattivi subito maledizione questo di pista è tosta però mamma mia che cattiveria vai vai va bene abbiamo fatto dalle stelle alle stalle però va bene va bene andiamo andiamo questa poi soprattutto è difficile qua si sente in Brasile c'era attenzione ma qua c'è proprio morte e sangue oppa là attenzione questo maialo si è buttato testa bassa un po' comunque sta anche conoscere la pista primo giro è stato tragico non si capiva proprio che cazzo si deve fare la pista è un attimo complicata adesso almeno sappiamo vagamente cosa ci aspetta moriremo sapendo non è già qualcosa attenzione qua buone attenzione mamma che trambadale là è proprio una curva infame cos'è puntatevi una regolata ma fa stelta attenzione maialo vacca puttana gestiamo un po' questo peso rischio che lei è un peso massimo essendo un maialo però oh cala che po' di caffa scusi buon uomo aspetti un attimo stavo riprendendo i sensi occhio si poi andando su e giù non si vede neanche una sega quindi è un po' più distinto sta pista o magari è muro muro più che istinto però dipende dai punti di vista attenzione curva stretta abbiamo le calcagna anche qui curva stretta è vero piano piano occhio occhio attenzione maialo si destreggia in queste curve occhio qua che fa una tutta fine abbiamo i zompettieri alle calcagne merda cazzo andiamo staccionata tiralo stanno proprio alle calcagne alle calcagne vai maialo ti farei intimidire occhio qua allora lì attenzione ci rilassiamo troppo che ci andiamo per il dirubo per il dirubo questo non demorda non demorda il primo errore ci inchiappetta questo questo maiale maialo che cosa vai per il discesone maialo non ci giriamo non ci giriamo non vediamo niente qua non siamo un cazzo piano occhia sta impennata a tradimento attenzione addosso che quelli fanno i furbi attenzione ultimo giro ultimo giro aumenti di tensione per il nostro maialo difficoltà estremo su questa pista alle maiali così piano piano muro va bene va bene mamma mia che abbiamo fatto la numero oppala attenzione attenzione qui attenzione qui vai maialo vai maialo demordere di panico andiamo dietro si quando no che cos'è che cazzo demordono attenzione attenzione qui oh mio che infamità quella zona quella e quell'altra dove non c'è una sega più avanti merda palo rimbalzo così maialo così maialo cattiva ecco qui ecco qui guarda è un po' lungo un po' lungo maialo un po' lungo questi qua come degli avvoltoi così attenzione la sega attenzione attenzione con il dribbling qui maialo è finita la pista attenzione attenzione maialo primo alla seconda manche dopo una prima disastrosa però come dire una volta che conosciamo la pista riusciamo a guidare un pochino meglio soprattutto a sapere dove non schiantarci o meno bene perfetto 240 punti siamo ancora primi quindi a questo punto ragazzi continueremo con la difficoltà difficile fin quando magari non perderemo balangate di punti vabbè ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto come sempre mi raccomando supportate il nostro maialo che adesso si sta destreggiando con una nuova moto e soprattutto difficoltà difficile tra queste curve insidiose e abbastanza bastarde soprattutto gli avversari che sono praticamente dei carri armati quindi mi raccomando se potete condividete i video commentate lasciate un bel mi piace e ci vediamo con il prossimo video saluto a tutti da quel taleale saluto a tutti